Un film per raccontare la storia dell'orsa JJ4. Ad annunciarlo è stato il regista Giovanni Veronesi in un'intervista al quotidiano Corriere della Sera. Oltre a raccontare la vicenda del plantigrano accusato di aver ucciso il runner Andrea Papi nei boschi di Caldessi in Val di Sole in Trentino Alto Adige, la pellicola vorrebbe fare riflettere sugli esseri umani soliti maltrattare gli animali. Ed ecco perché la trama potrebbe ospitare personaggi buoni e cattivi. Tra questi ultimi Giovanni Veronesi inserirebbe il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, perché vuole abbattere il mammifero strappato ai suoi tre cuccioli, nonostante la possibilità di trasferirlo in un santuario lontano. Il bene e il male contrapposti, ha spiegato il regista. Oltre a volere trascorrere un anno in Trentino Alto Adige per documentarsi sulla vicenda dell'orsa JJ4, Giovanni Veronesi vorrebbe girare una scena sotto la sede della provincia autonoma di Trento con un gruppo di giovanissimi impegnati a protestare contro la classe politica. Il motivo? Nessun bambino condannerà mai a morte un orso, ha affermato lo sceneggiatore. Il film sul plantigrado ribattezzato Gaia potrebbe uscire nelle sale nel 2025.